Il Sagrato dell'Abbazia di Santo Spirito ha fatto da cornice all'incontro dal titolo Per Cristo a tempo pieno, Padre Pino Puglisi, la bellezza della testimonianza fino al martirio organizzato dall'Ufficio Diocesano, Cultura e Comunicazioni Sociali della Diocesi di Caltanissetta presente anche Paola Geraci, medico che è stata una collaboratrice di Padre Pino Puglisi. È un evento che è stato organizzato grazie anche a Pietro Gaggi e alla Curia ricordando anche l'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di questo santo sacerdote siciliano ucciso dalla mafia nel 1993. Quello che abbiamo voluto però valorizzare non è soltanto la dimensione del martirio ma è tutta la sua storia, la sua vita perché il sacerdote è stato martirizzato perché santo non è santo perché è stato martirizzato, cioè fondamentalmente aveva fondato la sua esperienza su Cristo, il suo tempo, la sua vita, la sua storia sulla grazia del Signore e dunque anche le sue scelte, le sue azioni a favore degli ultimi, dei poveri, dei lontani, dei giovani, dei giovani. Ecco il nostro evento è quindi un momento per ricordare ma anche per dare una parola di speranza, per invitare ad un cammino nella via della bellezza, nella via della comunione e nella via della santità. Sono convenute veramente persone anche non solo da Caltanissetta ma da diversi paesi, diverse città sia perché la figura di Dompino Puglisi è una figura che affascina e che interessa a tutti sia perché abbiamo cercato proprio di sviluppare questo confronto, questo dialogo tra la Chiesa e la società e il mondo in tutta la nostra diocese, in tutta la nostra provincia. Un incontro molto partecipato che ha coinvolto anche i comuni limitrofi così come spiega il direttore dell'ufficio padre Alessandro Rovello che recentemente è stato anche eletto segretario nazionale dell'Associazione dei Teologi Moralisti. Sono stato eletto segretario nazionale e un'altra piccola responsabilità per il cammino, per la riflessione, la crescita nella via del bene, nella via del bene, nella via di Dio.